Salvatore Salvax1 Wario Town E arriva Wario Wario Town E arriva Wario Wario Town E oh mio Dio Ok Shuriken Io ho la Shuriken Power Ninja Sono un ninja bro Guarda Spruzzo Come l'ho detto Hai rotto le palle Fattelo di Wario 2 Hai fatto apposta per rompere le palle Porco 2 Io con Wario sono riuscito Wario è abbastanza forte direi Alla fine sono riuscito a battere La Classic Mode All'hello 5 Con lui Quindi alla fine No dalla parte sbagliata Che idiota No la stella pure Porco 2 Vaffangelo Alleluia ragazzi Non ce ne faccio più A me non sono morto E ora non sono morto neanche una volta Ok ho preso 2 costumi Ragazzi Che bello 2 costumi Lo giuro ragazzi La modifica Le modifiche per fare il personaggio Sono proprio una figata Cioè quella è una delle mie cose preferite Che devo fare Sobrecentrate Fare un mio personaggio L'ho fatto anche a DJ Alex 98 Un personaggio tutto suo Quindi Ok siamo già a 2 minuti Sony sono più veloci di te Sappilo Ah siamo a squadra Perfetto Sempre questo dottor Mario Che Cioè L'ho appena preso Già comincia a rompere sempre le palle Eccovi Fatevi leccare Bitch Ok Sonic Mi sa che si è suicidato Almeno io no Come cazzo ho fatto a uccidere C'avevo 70% Ah ecco A meno è morto Sonic Sto cazzo è dottor No Ecco Alleluia La rivincita di dottor Mario Anzi la rivincita di Kreninja Contro dottor Mario Ok Siamo a 1108 iscritti Attualmente Non male Ora andiamo Dallo Wifi Trainer Ciao Wifi Facciamo un po' di Fit Fitness Vai Perché il fitness Fa sempre bene Per dimagrire Dunque ragazzi Guardate che ho messo Stamattina Cioè diciamo che Stanno diventato Stamattina famosi Che in Play De Super Super Brothers Devo velo dire Vai Fottitela Così la ammazzi subito No Perché Mando un mio amico Tieni Guarda C'è Spupa Speupa Vai dentro L'acqua Ecco va Fate fottere il pesce No Beccate questo Almeno Dimmi che sei morta Sì È morta Alleluia Ragazzi Ce la ce l'ho più Comunque diciamo che i gameplay Di Super Super Brothers Ora con Pac-Man Questi qua sono Abbastanza famosi Devo dire Salopette Appiglio Duraturo Salopette Trendy Che palle Se salopette Ok Dove andiamo No Andiamo da Gigant Da Olimar Maxi Il pianeta remoto E siamo solo Siamo anche da soli E quella è la cosa Ok Mi danno due oggetti Normali Della stupinizzazione Shuriken Attacco Shuriken Attacco i Pikmin Invece di attaccare il personaggio Cioè Ok Vai Vai Asparalo Uccidilo Devi ucciderlo Devi ucciderlo Uccidilo E vai Ragazzi Lo abbiamo ucciso subito Ragazzi Siamo troppo forti 5 Falso Ecco Cosa 5 falso Ok Stivali eleganti Leccata Leccata di Yoshi Ok Andiamo Da questa parte Si I Mi Fighters Mi Fighters La squadra Mi I Mi Fighters Because they have nothing to do Dovete morire tutti Sono io o sono più forti? No Sono penosi come sempre E anche la bomba Ok Triple kill No No solo una double kill Perfetto Ecco qua Sapete come morire? Ecco Ve l'ho appena mostrato Finito subito ragazzi Metà C6 Sarà più corto del solito Perché siamo già ridi dal boss Master hand 70 monete A meno Mi danno Ma Sei pronto a morire Master hand Per la centesima volta? Difesa Ora non mi fotti più bro Difesa Ragazzi Ora vedete Un attimo Che si muoverà sempre Lo schermo È solo che Per premere R È scomodissimo E quindi alla fine Mi fa pure il dito Hai visto? Hai visto ragazzi? Mi fa anche il dito Come caldo si permette In uso Sono anche confuso E mo No Mi ha preso Ma poi se Mi ha preso Vergogna Di non devi prendere Le piccole rane Porco due È una povera rana Metà tut Affangiro Affangiro Sono troppo forte Per te Master hand Troppo forte Bitch Ok ragazzi Abbiamo ucciso Ragazzi Un tempo record Abbiamo fatto Siamo a nove minuti E abbiamo già battuto Tutto quanto Miracolo 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 Minchia Ante cosa abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato Una marea Una marea Di roba Mi ha preso Anche il trofeo Di Greninja Tantate ragazzi Se lo vedete Ieri Ne vedrete 50.000 Di trofei Guardate quanti Ce n'ho Porco due Perché Pallena Mi ha dovuto Fare un attimo Pure io Da solo Di personaggi Che nessuno Voleva vedere Quindi alla fine Perché Ho già fatto Mi sa che farò solo I personaggi Che mi dite voi Nei commenti Quindi alla fine Non li farò Tutti quanti Perché se no Fa sempre la stessa cosa Sarà noiosa Lecchiamo un po' di roba Greninja sta leccando i crediti Io non ci credo Non si leccano i crediti Non si leccano i crediti Non si leccano i crediti È troppo bella La faccia di Donkey Kong Comunque direi di saltarli Perché sono noiosi E poi tanto L'immagine La fanno vedere Compa' Alla fine Quindi alla fine Non c'ha senso Falla Perché tanto I soldi Ti danno pochi soldi Ok E abbiamo finito Vediamo se sbloccheremo Un nuovo personaggio Vediamo Potremmo sbloccare Un nuovo personaggio Forse Lo spero però No Non sblocchiamo un cazzo Comunque ragazzi Questo è tutto Ci siamo andati Da prossimo video Un nuovo video Da ragazzi Bitch